Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram, è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come te l'hai detto al titolo come ogni venerdì vi farò vedere le prove a tempo e come fare milioni questa settimana su Citi Online prima che cominci con il video, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto con le notifiche attive e di lasciare un bel mi piace visto che più del 50% di voi guarda i video ma non è iscritto quindi mi raccomando fatelo quindi senza perdere altro tempo come vedete la prova a tempo questa settimana si trova esattamente qui è abbastanza semplice come al solito la avviate una volta che l'avete avviata mettete l'impostazione insomma l'icona viola sul pallino giallo così appunto avrete la meta invece ragazzi di seguire la meta taglieremo dall'autostrada e poi passeremo direttamente a seguire il pallino giallo quindi veramente semplice adesso vi faccio vedere e ricopiate ciò che faccio veicoli consigliati l'abbati onestamente per questa prova a tempo perché si passa sulle colline quindi è più comoda vabbè qui era notte comunque semplicemente l'avviate e fate questo primo tratto e poi dopo la curva scendete subito a destra perché ragazzi questo per evitare di fare curve inutili quindi come vedete dal video prendete un po' di rincorsa così appunto anche qui ad esempio in questo caso prendete la collina così appunto salterete un bel pezzo di strada logicamente attenzione a non cascare e poi per il resto si tratta di seguire il percorso e ricopiare ciò che faccio nel video e poi vedete un po' di ricopiare ciò che faccio nel video una volta arrivati più o meno a questo punto pronti a buttarsi sulla destra per ragazzi prendere la collina quindi attenzione esattamente qui dove ci sta quell'alberello passate e prendete la rincorsa così appunto vi troverete direttamente davanti al percorso e sono 100.000 facili dopodiché per fare soldi questa settimana come sapete ci sono appunto i soldi doppi sulle vendite dei business MC pertanto vi consiglio di rifornire i vostri business e poi piano piano di venderli vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione la guida completa sui business motorcycle club se ad esempio volete fare milioni in solo trovate anche le guide su quanto devo riempire il business per fare le vendite in solo quindi senza amici perché se logicamente li riempite tutti quanti poi vi escono 20 camion e farli da soli è un attimo un problema comunque vi ricordo di andarvela a vedere se volete sfruttare questo business come ogni settimana potete fare caio perico oltre a quello se volete un po' variare potete fare tranquillamente le missioni tutte quante i soldi doppi quindi vi consiglio di farle soprattutto perché ragazzi non le gioca mai nessuno questa settimana noi soldi doppi danno circa 25-30.000 dollari l'uno nel mentre che le fate i vostri business producono e magari vi fate anche un caio perico e poi ragazzi fate veramente i milioni quindi ragazzi spero che questo video brevissimo vi sia stato utile vi ringrazio la visione vi aspetto nei prossimi giorni con altri video e noi ci vediamo al prossimo video vi aspetto a noi